Ma questo che io avrei tornato è passato un giorno e una notte ancora un servizio. È tutto a posto. Muovi via per il culo. Ti ha detto che è tutto a posto, padrì. E non lo è. Ti ha già saputo, che è successo a Pietro. Tu resta calmo, questo è solamente importante, padrì. Hanno sparato a Pietro. Ma sta buono, sta buono, sta buono. Ti lascio vedere.